però ragazzi che palle perdere due punti così eh mamma mia che palle oh veramente oggi il Milano ha avuto proprio un culo ma di un culo veramente troppo che palle mamma mia oh veramente una partita che meritavamo di vincere la Fiorentina meritava di vincere questa partita meritava e andare insomma a fine della prima del girone andata e alle vacanze di primo anno insomma dell'anno nuovo con 29 punti invece di 27 perché questo pareggio il Milan non se ne è meritato per niente perché ha tirato una volta sola in porta due via perché Suso è stato la pedina di questo Milan ecco diciamo di questo Milan che veramente non è un Milan scandaloso quest'anno è veramente un Milan scandaloso nonostante tutti i soldi che ha spenduto nel mercato è veramente un Milan scandaloso e la Fiorentina è pure riuscita a pareggiarci ma comunque è sfiga ragazzi questa è sfiga perché nonostante le tante occasioni create alla fine la Fiorentina non riesce mai a fare l'ultimo l'ultimo diciamo passaggio finale per arrivare in porta perché se no la partita poteva finire tranquillamente 3 o 4 a 0 se la magari se facciamo col gol di Cialanoglu 3 o 4 a 1 ecco ma tranquillamente il Milan non se non meritava per niente questo pareggio la Fiorentina doveva vincere questa partita se la meritava di vincere una sfiga una sfiga clamorosa ragazzi io 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 veramente boh non lo so cioè quanto culo può avere il Milan mamma mia o cioè mi sono proprio arrabbiato oggi perché una partita che mi sono andato a vedere insomma i video di insomma di chi di di Milan sport insomma le conferenze dell'allenatore cioè comunque insomma una squadra che era contenta di aver preso questo punto a Firenze ma è normale perché a Firenze prendere un punto è oro diciamo però questa volta veramente mi fa rodere veramente tanto perché porca miseria primo a culo perché comunque il gol di Cialanoglu era sul rimpallo e comunque quindi diciamo un gol fortuito a caso perché poi sul secondo tiro in porta di Suso per l'appunto la palla gli arriva lì a Cialanoglu a Casaccio e riesce a buttarla in rete poi Donnarumma porca miseria ha parato tutto ha parato l'impossibile e poi si è presa anche una traversa perché poi la palla è ricaduta con il tiro di Gildia se sono un monte di cose sto dicendo cosa a Casaccio perché mi viene veramente un nervoso in testa amoroso non potete capire non riesco a descrivere oggi pomeriggio l'ho veramente arrabbiato perché comunque era una partita che la Fiorentina si meritava di vincere e non è arrivata questa vittoria comunque per l'appunto il Milan ancora comunque sotto la Fiorentina come punti quindi diciamo che la classifica ha ragione insomma la Fiorentina in questo caso perché è sopra in classifica però ragazzi cioè no no perdere due punti così no è comunque diciamo la Fiorentina ha avuto il piglio della partita tutta la partita il Milan invece non ha mai compicciato niente di che è arrivato a tirare in porta due volte non costruiva azioni ogni volta che arrivava nella tre quarti avversaria perdeva palla cioè è una partita veramente brutta da parte del Milan comunque in questo caso complimenti a loro perché hanno preso un punto dove nessuno non avrebbe mai sperato nemmeno loro credo di prenderselo e quindi niente la Fiorentina torna a casa insomma torna a casa rimane a casa perché era a Firenze era a Firenze con un punto e niente insomma la prossima giornata è contro l'Inter quindi la prima il prima milanese si prende un punto ora si sta a vedere contro l'Inter però ragazzi mamma mia che culo sto milan che culo grazie